Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 14 della seconda stagione, e la 32esima in totale. Palavolo per cominciare e questa Smart System da montagne russe, che purtroppo non si è smentita nell'ultima circostanza in campionato, era impegnata Sabaudia, si è resa al tie-break, quando sembrava che questo tabù da trasferta fosse stato demolito in occasione della fruttuosa trasferta di San Giustino in Coppa. Smart System, nel frattempo, ancora però imbattuta in casa, è comunque terza in classifica e dunque in linea con le aspettative d'inizio stagione, che andranno naturalmente suggellate durante il percorso che ancora bisogna sviluppare. Della Smart System trattiamo questa sera con il presidente Emilio Cenerilli, buonasera e bentornato. Buonasera, grazie. E con il nuovo allenatore, Vincenzo Mastrangelo, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a tutti. Dicevamo di una Smart System da su e giù, una volta molto bene, un'altra meno. C'è sicuramente questo dato eclatante delle partite in campo esterno, dove sono arrivate cinque sconfitte consecutive, credo, in campionato, inframmezzate però dal trionfo di San Giustino, che sembrava aver in qualche modo interrotto l'emorragia. È davvero una Smart System double face? Cosa c'è dietro questo cambiamento di faccia dal Palace Allende ai campi esterni? Lo è effettivamente perché i risultati lo dimostrano. Abbiamo fatto bene, benissimo anche in casa. Abbiamo fatto spesso molto male fuori casa. C'è stato questo esplodio di San Giustino che ci ha permesso però di qualificarci per la Final Four di Coppa Italia. E la speranza ovviamente è quella per la quale la vera squadra sia quella vista San Giustino o quella vista molto spesso anche tra le mura amiche del Palace Allende. È la ragione per la quale abbiamo deciso in qualche modo di cercare di cambiare la rotta e l'obiettivo che ci poniamo è quello certamente di migliorare i trasferta e mantenere la buona tradizione che abbiamo avuto fino ad oggi in casa. Prima dell'impresa di San Giustino è arrivato anche il successo di Napoli, molto sofferto. L'ultima partita sulla panchina virtussina di Paolo Tofoli dopodiché era decisione anche un po' sorprendente per certi versi di rimuovere dall'incarico Paolo Tofoli per affidarsi a Vincenzo Mastrangelo. Una decisione che visto il rapporto che lega la sua città a questa squadra Paolo Tofoli ha suscitato scalpore. Qual è la giustificazione? Questa difficoltà ad esprimersi in trasferta o c'era anche altro? Allora, intanto è stata una decisione molto complicata, molto sofferta. Tutto il Consiglio ne abbiamo parlato a lungo e alla fine però abbiamo preso unanimamente questa decisione. La ragione l'ho già spiegata. Non eravamo soddisfatti dei risultati e delle prestazioni soprattutto. soprattutto per quello che riguarda le trasferte che avevamo affrontato fino a quel momento ed è chiaro che abbiamo cercato di dare una svolta a questa stagione che per noi è straordinariamente importante. È una stagione che abbiamo costruito per cercare di raggiungere un obiettivo molto importante che in quel momento francamente non vedevamo in maniera chiara e limpida e quindi con dispiacere perché naturalmente sono decisioni che si prendono sempre con un po' di rammarico però abbiamo deciso di andare avanti e di affidare la squadra a Vincenzo Mastrangelo che è un allenatore di grande esperienza e che ovviamente speriamo che ci porti a raggiungere questi risultati. Quali invece le motivazioni che hanno spinto Mastrangelo ad aderire alla proposta che gli è arrivata da fare? Ma una telefonata con il Presidente non è durata neanche tanto. Ho visto in fano, mi sono guardato un po' la squadra, ho iniziato a guardarmi il campionato perché è un campionato che io non ho mai disputato e ho visto che comunque il potenziale c'era per poter far bene non nascondo la mia voglia chiaramente di tornare subito ad allenare Ricordiamo che avevi iniziato la stagione in 1 con Taranto Sì, sì, volta a pagina subito, a ripartire con un progetto importante e volevo sentirmi tanta fiducia e tanta nei miei confronti e il Presidente è stato bravissimo in quella telefonata a farmi capire che al di là di tutto c'era un progetto più lungo anche e quindi abbiamo fatto qualcosa di importante e non cercavo un rientrare giusto per finire una stagione perché potevo continuare a stare a casa e prendere i soldi da Taranto come era giusto che sia però la mia voglia mi ha portato tanto a far qui e adesso devo tenermi un po' a freno perché Questa voglia può tradirti? Ma sì, perché posso aggiungere un po' di nervosismo in più magari invece devo mantenere lucidità, mantenere tranquillità cercare di portare i ragazzi a un livello in cui ancora non siamo perché ci sono poche certezze in alcune situazioni e non è un caso che fuori casa vengono fuori perché in casa ci attacchiamo molto al fatto che lavoriamo tutti i giorni in questo palazzetto Perché i punti di riferimento nella pallavolo sono importanti? Sono importanti, sono importanti non è un caso che le trasferte si organizzano anche quando sono vicine dal giorno prima per fare una prova a campo per cercare di trovare riferimenti non è qualcosa di scontato tutto chiaramente noi abbiamo una squadra che se andiamo ad analizzare come ho fatto un po' partite in casa, partite fuori sembrano due squadre totalmente diverse e questo è frutto di alcune poche sicurezze che abbiamo in alcune fasi del nostro gioco e sta a me analizzarle, capirle e risolverle e nel più breve tempo possibile perché? Perché siamo stati bravi a San Giustino a vincere una partita importante questo deve essere un aspetto però importante perché una partita importante fuori casa e l'abbiamo vinta quando contava veramente tanto l'abbiamo vinta benissimo giocando bene, ordinati e questo deve essere già un primo tassello per noi non ci deve far raccontentare perché dobbiamo capire che quelle saranno le partite che decideranno il nostro futuro la nostra stagione, i nostri risultati fra un mese avremo la Final Four di Coppa e lì inizieremo a capire dove siamo e quanta possibilità avremo veramente di poter dire la nostra anche nel playoff e un po' rivedo una situazione un po' da Reggio Emilia e quindi voglio partire voglio partire da questa venne ottenuta la promozione in A1 al termine dei playoff sì ma mai da primi mai da secondi noi abbiamo vinto una coppa da quinti giocandola fuori casa tutta tutte le partite da quarto di finale, semifinale e finale e poi il playoff uguale da quarti ma abbiamo vinto anche il playoff non avendo sicuramente il favore del pronostico quindi è arrivare in quel momento pronti tecnicamente, mentalmente ad affrontare le difficoltà cosa che in questo momento appena noi andiamo in difficoltà un po' ci perdiamo ecco perché ci sono dei set vinti a 16, a 15 e poi il set successivo sembra un'altra squadra in campo ancora perché ancora le nostre certezze non ci sono quindi sta a noi lavorare per quello il potenziale c'è dunque chiaramente fondamentale l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico però quali le corde da toccare anche a livello psicologico soprattutto in alcuni giocatori in cui è più evidente questa trasformazione in trasferta sì sta a me capire ho detto ragazzi fate in modo che io riesca ad entrare nella vostra testa prima io riuscirò ad entrare nella vostra testa prima riuscirò a risolvere i vostri problemi se vi chiudete al riccio per orgoglio per un po' di presunzione o anche per perché ognuno è fatto in un certo modo farò più fatica con voi e i risultati arriveranno dopo sempre più lontani ma potrà essere troppo tardi e invece noi ho chiesto un sacrificio provare loro a fidarsi di me perché io ho tanta fiducia in loro ma loro devono fidarsi di me del mio lavoro del mio modo di fare di gestire loro da un punto di vista tecnico fisico lo stare insieme questo è l'aspetto questo è uno sport di squadra non è uno sport individuale ma di squadra non solo quelli che vanno in campo sono gli altri che sono in panchina c'è tutto uno staff da gestire c'è l'umore della società che giustamente quando si perde una partita non è contenta dobbiamo essere bravi dobbiamo sapere che è giusto anzi guai se non fosse così guai se la società dopo una sconfitta fa finta di nulla guai guai poi ci sono modi e modi non ci contare troppo da questo punto di vista appunto veniamo all'ultima gara è una mia richiesta verso la società deve essere una richiesta del tecnico verso la società perché perché i ragazzi sono giovani e molti sono troppo molti sono troppo giovani soprattutto mi pare non ci sia tutta questa esperienza in termini di campionati giocati con responsabilità con ruoli di responsabilità loro quest'anno probabilmente qualcuno di loro ha la responsabilità anche di poter vincere un campionato che è diverso da giocare un campionato totalmente diverso giocare per vincere è una cosa diversa ha una pressione già ogni partita ogni palla ha un peso diverso e questo si si conquista giocandole ho detto ragazzi fate esperienza prima di entrare in San Giustino ho detto ragazzi queste partite molti di voi non le hanno giocate ancora non sarà non è la prima magari ma non sarà mai l'ultima sta a noi fare in modo che fra un mese e mezzo ne abbiamo altre due da giocare ma sarà e quella sarà esperienza che ci porterà a giocare bene il playoff se perdiamo queste occasioni perderemo le occasioni di crescere di affrontare quelle tensioni di gestire quelle tensioni che solo quelle partite danno e che l'allenatore non potrà mai riproporre in un allenamento mai ma sono quelle partite che fanno dei giocatori dei giocatori di un certo tipo a differenza di altri giocatori che resteranno sempre lì in una categoria in quel limbo di quella categoria senza avere nessun'altra chance di poter andare oltre invece in questa squadra ci sono giocatori che possono avere e hanno le qualità per vedere la 3 come una categoria di passaggio dicevamo dell'ultima gara giocata a Sabaudi è una sconfitta che va contestualizzata però in rispetto ad un campionato in cui le ultime 4 nell'ultima giornata hanno vinto tutte ma non si è trattato di un exploit isolato perché si assiste ad una sorta di rivoluzione del proletariato di questo campionato le ultime stanno mettendo in difficoltà e stanno anche battendo le prime soprattutto danno a vedere qualità insospettabili per squadre iniziate di retrocessione a maggior ragione quando giocheri in casa sono molto pericolose perché provano a stringere i denti a provare a raccogliere tutto quello che è possibile perché sono in quella situazione in bagarre di una retrocessione devo essere onesto non c'è una squadra scarsa sulla carta perché anche la stessa Sabaudia in alcune situazioni è di buon livello mi meraviglio ad esempio che Bari sia in quella condizione con quel roster e Marcianise vince con Palmi che veniva da otto vittorie consecutive prima di perdere con Sabaudia e poi appunto con Marcianise veniva dalla vittoria del quarto di finale di Coppa a Macerata contro la prima dove hanno fatto una partita straordinaria e però dopo la gestione di quei momenti fa la differenza tra essere una squadra che aspirerà a vincere e no loro in questo momento hanno dimostrato che non sono una squadra che potrà vincere qualcosa mi sbaglio probabilmente però e questo è il sintomo di quando una squadra vince qualcosa di importante e poi dopo fa fatica a riprendere quella cattiveria agonistica con la concentrazione a mantenerla sempre e quando giocheremo il pre-off ogni tre giorni giocheremo quindi bisognerà essere bravi a far quello e non è stata brava sicuramente Palmi noi non come loro perché loro hanno perso da Sabaudia in casa 3 a 1 e poi hanno perso adesso a Marcianise noi abbiamo vinto stentando 3 a 2 con Bari e abbiamo perso 3 a 2 a Sabaudia in una partita in cui questa contraddizione è emersa ancora una volta in maniera chiara un set vinto abbastanza disinvoltamente il primo un set perso nettamente il secondo un altro set il terzo condotto con assoluta sicurezza poi nel quarto nuovo blackout e nel quinto altro break negativo recuperato la palla del 12 pari magari non gestita benissimo e partita compromessa preoccupano soprattutto questi break anche su turni di battuta avversari non così irresistibili sì ma quello che a me preoccupa più che preoccupa quello che ho notato in queste tre partite una è andata bene tutto quindi non fa testo ma nelle altre due quello che a me preoccupa è venuto agli occhi è che noi giochiamo poi fino a punto a punto l'inizio dei set avendo la possibilità di ammazzare l'avversario in quel momento con contrattacco 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 giocando bene battuta muro difesa contrattacco non va giù contrattacco ancora non va giù quindi la possibilità di andare più due più tre riprendere il largo in qualche caso contrattacchi comodi e delle volte comodi anche anche e allora lì è lì che dobbiamo cambiare il nostro aspetto sappiamo che quella fase lì va e non va e quando non va poi ci mette tanta pressione nel side out nel cambio palla perché poi dopo dobbiamo per forza tenere il ritmo solo con il cambio palla e magari non becchiamo qualche riso al servizio e magari poi anche lì a muro diventiamo un po' più scomposti ci nervosiamo e perdiamo un po' a quell'equilibrio che per cui stiamo lavorando a mantenerlo per due ore noi dobbiamo essere bravi ad avere un equilibrio di battuta muro difese contrattacco per due ore quella è la base perché il cambio palla poi dipende dalla bravura anche dell'avversario del metterci in difficoltà ma in quella fase lì molto dipenderà da noi dal servizio dal muro ma non possiamo pensare di risolvere tutto muro e servizio c'è l'altra fase c'è la difesa che funziona abbiamo avuto oltre 50 contrattacchi ne abbiamo messi neanche 19 giù in una partita che potremmo vincere 3 a 1 probabilmente vince con 3 a 0 perché anche il secondo set fine 14 è stato punto a punto ma con tante occasioni di andare più 2 più 3 più 4 lì viene la rabbia deve venirci una rabbia dentro che ci deve portare a lavorare al palazzetto tutti i giorni con una rabbia con una voglia di risolvere i problemi diciamo i risultati dell'ultima giornata abbiamo già accennato al fatto che le ultime si stiano ribellando con grande forza quello che sembrava il loro destino in vetta alla classifica macerata risolve a proprio favore lo scontro diretto con San Giustino è a lunga il primo posto sembra perlomeno ipotecato dalla squadra di Castellano come vediamo dalla classifica che colloca comunque la Smart System al terzo posto Presidente comunque al di là di questo rendimento alterno la Smart System è dove grosso modo voleva essere e se si aggiunge l'obiettivo della Final Four di Coppa Italia questo bilancio non così positivo come nelle migliori delle previsioni è comunque accettabile? Beh stiamo siamo ancora in corsa su tre fronti sul fronte del campionato naturalmente dove abbiamo una posizione che ci permette certamente di disputare i playoff abbiamo raggiunto le Final Four di Coppa Italia questo ci porterà speriamo eventualmente anche a disputare se dovesse andare tutto bene la Supercoppa quindi diciamo ci stiamo muovendo su tutti i fronti e su tutti gli obiettivi che avevamo all'inizio è chiaro che abbiamo la sensazione che ci manchi qualcosa che ci manchi qualche punto che qua e là abbiamo lasciato spesso con prestazioni non soddisfacenti però è chiaro che in questo momento c'è una squadra che è macerata che chiaramente è stata allestita molto bene e che ormai ha un postino a due assicurato lo sappiamo anche perché Castellano avrà le esperienze dell'anno scorso e quindi non ripeterà certamente gli stessi errori l'anno scorso ricordiamo che abbiamo dominato il campionato per poi scioglierci nella fase quella importante dei playoff e quindi al di là di questa battuta direi che siamo come dicevi tu Andrea più o meno dove pensavamo di essere forse un pochino più in su con la con la garanzia ovviamente di iniziare i playoff e potendo disputare il maggior numero possibile di partite in casa che è un altro aspetto naturalmente determinante Coppa Italia Final Four a Fano? Final Four sicuramente intanto questa è già una prima notizia a Fano con molte possibilità ci stiamo lavorando abbiamo dato la nostra disponibilità alla Lega stiamo parlando con la Lega sabato ci sarà un CDA della Lega per l'appunto dove verrà decisa la sede delle Final Four la data è quella del 7 marzo 2-3 marzo 2-3 marzo sabato e domenica semifinale sabato finale la domenica siamo rimasti in corsa noi e Palmi noi abbiamo abbiamo messo in campo tutta la nostra capacità organizzativa che spesso dimostriamo non ultimo appunto il torneo di Natale e quindi speriamo che la Lega affidi a noi l'organizzazione della finale avversario comunque semifinale Mantua che sta dominando il Girone Nord dicevamo della capacità organizzativa che la Virtus ha messo in mostra anche in occasione della Fano International Volley Cup numeri da record un'altra prova non solo della dedizione al settore giovanile che la Virtus ha storicamente ma anche appunto della qualità ormai consolidata che la Virtus esibisce quando si tratta di mettere in campo manifestazioni così impegnative sì sì due cose bellissime in effetti quelle che hai detto la prima riguarda appunto l'attività giovanile che per noi è di fondamentale importanza e quando si tratta di giovani ci mettiamo tutto l'impegno necessario e l'altro aspetto riguarda la capacità organizzativa che questa società ha consolidato ormai e che dimostra tutte le volte che c'è da organizzare un evento la Fano International Volley Cup è stato l'ultimo molto importante un numero più di mille atleti duemila presenze abbiamo fatto quasi 300 partite in tre giorni quindi è una cosa veramente un'organizzazione straordinaria ma non è l'unico evento che organizziamo ci rendiamo sempre disponibili con la federazione con la Lega per organizzare finali finali giovanili o appunto anche la finale in questo caso le final 4 di Coppa Italia ci riconoscono Lega e Federazione questa capacità ed è chiaro che poi insieme alle istituzioni insieme all'aiuto degli sponsor riusciamo sempre a fare una bellissima figura grazie a Emilio Cenerilli presidente della Smarsist Ezzano grazie a Vincenzo Mastrangelo l'allenatore noi torniamo fra qualche istante veniamo adesso al calcio è arrivata Riccione la prima sconfitta per l'Alma sotto la gestione Cornacchini la classifica indubbiamente ne ha risentito ma non è questo l'aspetto più preoccupante di una situazione diventata quasi ingovernabile a livello societario come è noto il presidente russo ha prima rassegnato le dimissioni dall'incarico poi consegnato virtualmente la società nelle mani del sindaco la proprietà resta ovviamente in mano sua ma il disegno dello stesso russo resta al momento imperscrutabile di certo è che le istituzioni cittadine si sono dovute mobilitare per cercare di individuare un'alternativa all'attuale proprietà impresa che storicamente è a Fano è titanica vedremo cosa succederà nei prossimi giorni le scadenze si avvicinano e c'è anche il rischio concreto che l'Alma possa non finire questa stagione che ha preso sul campo una piega ulteriormente negativa proprio a Riccione vediamo le immagini è arrivato un risultato negativo che con un po' di fortuna e un po' di attenzioni in più avrebbe potuto anche essere evitato Alma che è andata a segno per prima con il calcio di rigore che maturerà dopo questa incursione di Calumbo il pallone messo in mezzo per Padovani atterrato nel momento in cui stava impattando il pallone lo stesso Padovani autore della migliore prestazione da che è ritornato dopo l'infortunio ha trasformato dagli 11 metri Alma che vedremo tra poco ha avuto la possibilità con Dubaz di assestare il colpo del K.O il suo colpo di testa però è stato respinto dopodiché su un calcio d'angolo probabilmente leggibile è arrivato il gol dell'1-1 da parte del Riccione che ha fatto da preludio a quello che poi sarebbe accaduto nella ripresa dopo che prima dell'intervallo l'Alma era andata nuovamente vicino al gol con la traversa colpita da Mancini su questa conclusione appena dentro l'area dicevamo di un secondo tempo che si è aperto con l'incertezza di Riggioni sulla quale si è sovrapposta all'uscita maldestra di Guerrieri che però lamentavano inconveniente muscolare che aveva indotto qualche riflessione già nell'intervallo la sostituzione sarebbe arrivata soltanto dopo il 2-1 la reazione dell'Alma non si è fatta attendere Alma che ha sfiorato il 2-2 con Padovani che ha mancato l'impatto con il pallone a pochi metri dalla porta avversaria dopodiché è arrivato anche il terzo gol del Riccione Alma che addirittura ha chiuso in 10 per l'infortunio di Tomassino una volta esaurite le sostituzioni rapidamente i risultati dell'ultimo turno con l'Alma che vede le concorrenti dirette fare quasi tutte il risultato e scivola ancora più in profondità nella zona play out come possiamo rilevare dalla classifica Alma che sabato in anticipo anticipo dettato dalla concomitanza con il Carnevale avrà a che fare con la Samre Dettese rilanciata all'inseguimento del Campobasso quanto al Fossombrone la sfida con il Vasto Girardi è stata rinviata per neve nel nostro viaggio esplorando il pianeta sport atterriamo questa sera sul pattinaggio e ad aiutarci in questo viaggio saranno Michele Ravagli presidente della Torosky Center buonasera e benvenuto buonasera e buonasera a tutti e Maria Adele Bocci atleta della Torosky Center pattinaggio di velocità spieghiamo di cosa si tratta anche se la gente magari un'idea può essersela fatta in anticipo allora il pattinaggio di velocità è una delle varie declinazioni che appunto ci sono nelle discipline rotellistiche nella fattispecie la velocità e la disciplina tra le nostre noi abbiamo oltre 10 discipline sportive che come federazione gestiamo e la velocità rappresenta la massima appunto espressione della velocità su ruote il pattino è diventato essenzialmente in line ovvero con le ruote in line non più col quad che ancora viene usato per esempio nelle discipline come l'artistico o l'hockey e si gareggia su tre tipologie di piste diverse la pista piana un po' quello che si vede nelle discipline invernali nel nostro alter ego per esempio lo short track nell'ovale resinato che è una pista parabolica della lunghezza a livello internazionale di 200 metri e nel circuito stradale che varia tra un 350 e 600 metri ecco l'ultimo circuito del mondiale era un 330 metri queste sono le tre tipologie di superficie sulle quali i nostri atleti si confrontano Etonovsky Center ha raccolto il testimone da chi nei decenni passati anche nell'immediato dopoguerra su questo territorio ha praticato il pattinaggio di velocità essenzialmente su strada anche con ottimi risultati assolutamente assolutamente sì il centro Italia la provincia di Pesaro Urbino non è nuova anzi è avezza ad avere una tradizione anni 50 anni 60 che poi per un motivo o per un altro è stata quasi congelata una cosa come si dice per i vulcani qui è scente e noi come Torosky Center per per induzione ci siamo arrivati nel 2016 partendo da e qui possiamo anche capire da dove siamo partiti e spieghiamo anche il nome perché ha una sua particolarità sì Torosky Center nasce da un respiro io sono un uomo di sport vengo da una disciplina diversa vengo dal pentathlon moderno sono stato atleta professionista di livello internazionale a cavallo tra gli anni 80 e 90 e poi mi sono appassionato a questa disciplina perché perché ci sono arrivato tramite lo ski roll lo sci di fonda rotelle l'etimologia del nome è curiosa e nasce proprio da un'ispirazione di una persona che stimo tanto di mio figlio a tutt'oggi anzi ad oggi 26enne rampante 26enne che allora mi disse ma babbo visto che tu hai una grande passione per lo ski roll perché non apri una scuola che nel centro Italia non ce ne sono e così fu commercialista camera di commercio a quel punto dovevamo dare un nome a questa realtà siccome non mi piace essere proprio né scontato né banale sono andato a scomporre un po' le fasi ho detto chi mi ha dato questo nome mio figlio Cesare Cesare che sport fa a rugby nel rugby lui era un grande prima linea e lo chiamavano toro quindi essendo stato lui il motivo ispiratore l'ho chiamato toro come partenza lo ski roll a livello internazionale veniva chiamato roller skiing quindi torol ski e center perché perché la mia esperienza sportiva mi ha portato a cercare di dare agli atleti cosa un centro sicuro per le emozioni quindi torol ski center perché è proprio una casa per le emozioni quindi ecco questo un po' è l'idea che è nata come avrete potuto notare non manca il carisma al nostro Ravagli che comunque ora ci spiega dove è andato a pescare i suoi proseliti e le sue atlete e poi sentiremo Maria Delle Bocci perché ha scelto questa disciplina allora ovviamente la prima parte degli atleti li ho avuti come talent transfer perché perché nel 2015 il CONI decretò che lo ski roll non poteva più essere gestito dall'allora federazione italiana ok pattinaggio ora federazione italiana sport ortellistici ma avrebbe dovuto transitare in FISI cioè federazione italiana sport invernali ovviamente era stato già iniziato un processo per l'attività giovanile quindi abbiamo fatto quello che nell'ambito sportivo si chiama talent transfer ovvero quelle competenze tecnico metodologiche quelle abilità motorie e quelle capacità metaboliche che servivano per lo ski roll sono state trasferite con delle aggiunte con delle variazioni nel pattinaggio di velocità quindi parte degli atleti che diciamo hanno iniziato a fare pattinaggio provenivano da quella prima informazione dopodiché la disciplina è di per sé una disciplina accattivante a chi non piace la velocità e quindi ovviamente piano piano nonostante le difficoltà dell'impiantistica abbiamo avuto proprio diverse generazioni oggi siamo alla nostra terza generazione di giovani atleti Adele la presenta in questo caso insieme alle sue colleghe il primo prodotto evoluto della scuola giovanile del Toroski Center cosa ti ha spinto Adele ad abbracciare questa disciplina questo amore per la velocità che è quasi spontaneo allora ho scelto pattinaggio perché sono sempre stata spericolata sin da piccola e l'ho scelto soprattutto perché avevo iniziato con una mia amica però poi è diventata una delle mie passioni più grandi e lo è tuttora quali le doti che si richiedono ad un atleta giovane atleta in questo caso in questa disciplina le doti sono molteplici si parte da tutte quelle che sono le capacità condizionali forza resistenza velocità vengono incluse tutte e tre nel processo evolutivo anticipazione motoria equilibrio fantasia estro coraggio il patinaggio racchiude grandi abilità tecniche grandi qualità emozionali e quella famosa dose di pregiudicatezza che è propria degli sport che si praticano ad alta velocità l'amore per il patinaggio ma credo anche una bella atmosfera all'interno di questo gruppo sei stata accompagnata da alcune tue compagne con le quali avete formato mi par di capire un gruppo molto solido sì e ci conosciamo sin da quando siamo molto piccole abbiamo un legame fortissimo e ci sopportiamo ci sopportiamo anche ma soprattutto ci sopportiamo l'un l'altra e siamo non solo compagni di squadra ma soprattutto delle grandi amiche qual è l'impegno che richiede questa attività? allora è un grande impegno però io ho sempre detto che quando una cosa ti piace sei disposto anche a dei grandi sacrifici infatti anche se faccio la terza media lo studio comunque comporta molto tempo però mi impegno molto per andare sempre agli allenamenti perché è una cosa che mi piace fare quindi sono contenta anche di impegnarmi per farlo qual è lo sforzo che chiedete ai vostri giovani da questo punto di vista e soprattutto veniamo al tema anche delle strutture quali sono le strutture delle quali vi avvalete? per quanto riguarda lo sforzo noi cerchiamo come respiro proprio metodologico di non spingere troppo in età giovanile perché allora il famoso drop out che quel meccanismo per cui ormai ai noi in tante discipline sportive il pattinaggio non ne viene escluso c'è un abbandono dall'attività in fase giovanile e questo per molteplici motivi però è importantissimo riuscire a rispettare quelle che sono le tempistiche dell'accrescimento le tempistiche metaboliche cioè l'atleta deve diventare un'atleta di alto livello costruendo tutto il suo processo in età giovanile vero è che e qui parte la parte scomoda del lavoro che l'istruttore giovanile la società deve essere disposto a investire investire in che senso? costruire e non vincere e costruire e non vincere a volte può essere depotenziante dal punto di vista dell'immagine quindi dose di coraggio prima la dobbiamo avere noi prima dei nostri atleti altrimenti se l'esempio non è quello buono rischiamo di bruciare talenti che purtroppo non solo odieranno il pattinaggio ma forse odieranno lo sport se sono stati mal gestiti ecco dove svolgete la vostra attività e di quali numeri parliamo? Toroschi Center ha come sedi principalmente per quanto riguarda la strada la città di Fano il circuito ciclistico Marconi che adesso tramite anche qualche bypass è stato avvicinato molto a quelle che sono le caratteristiche occorrenti al pattinaggio anche se non è un circuito specifico in quanto nato per il ciclismo tramite appunto questi piccoli accorgimenti è stato adattato Pesaro Pesaro dovrebbe ospitare nella quale città dovrebbe nascere nel 2024 un circuito che ha addirittura delle misure federali ha una progettualità federale quindi delle misure che consentirebbero anche l'organizzazione di eventi internazionali e poi noi andiamo a Senigallia proprio adesso diciamo andremo ad allenarci a Senigallia perché? perché è l'unica pista diciamo nella circondario nelle vicinanze del territorio pesarese fanese disponibile appunto Senigallia dove possono essere sviluppate delle capacità soprattutto tecniche che su strada e su pista piana non si riescono a ottimizzare su quale bacino di tesserati potete contare? attualmente noi abbiamo come bacino di tesserati un'ottantina di bimbi tesserati dei quali 36 agonisti 36 agonisti e quest'anno abbiamo anche implementato un po' l'offerta o meglio siamo stati intercettati come team da grandi atleti di levatura internazionale nella fattispecie Elia Omero Linda è già un atleta di Torosky Center da svariati anni parliamo di Linda Rossi assolutamente sì Linda Rossi con la quale noi collaboriamo dal 2016 esatto attualmente Linda è in forza al gruppo sportivo Fiamme Azzurre quindi alla polizia penitenziaria per quanto riguarda il settore ghiaccio come settore rotellistico è ancora appartenente alle file Torosky Center e in più ecco questi nuovi talenti Elia e Omero che sono veramente puro sangue cavalli di razza loro hanno vinto già medaglie importanti argenti bronzi e campionati europei e mondiali junior e anche loro avevano in qualche modo mollato l'attività d'elite e quindi stiamo cercando di ridare loro fiducia vigore e questa cosa insomma vedo che dal punto di vista motivazionale dal punto di vista proprio dell'impegno piace proprio in questo fine settimana mi hanno appena comunicato mentre stavo entrando nei vostri studi che saranno nuovamente con noi per allenarsi quindi ecco quando noi riusciamo a essere veicolo per le emozioni abbiamo vinto indipendentemente dalle medaglie la tua è poi una duplice veste presidente Torosky Center ma anche preparatore atletico della Nazionale Azzurra esattamente sì abbiamo fatto recentemente si è chiuso il mondiale italiano il 3 di settembre ad Altececcato Montecchio Maggiore Veneto dove l'Italia ha guadagnato un traguardo importantissimo 25 medaglie vinte contro le 11 del mondiale precedente in Argentina e addirittura 4 ori uno dei quali quello di Vincenzo Majorca tesserato per il mio amico Ernesto Majorca della società di Priolo del quale io sono appunto preparatore atletico ha vinto l'oro nella 100 metri uno dei più giovani campioni del mondo del panorama azzurro ha vinto un mondiale neanche 23 anni quindi ecco questa duplice veste ci consente di sviluppare anche per quanto riguarda l'aspetto motivazionale delle nostre ragazze una coesione con l'altissimo livello sportivo internazionale visto che l'Italia è uno dei fari per quanto riguarda le nazioni del pattinaggio di velocità a livello mondiale vincere non deve essere un assilo l'abbiamo detto però non dispiace allora quali sono i risultati che avete centrato con queste giovani e questi giovani le nostre ragazze hanno vinto diverse medaglie a livello regionale hanno fatto diversi podi Adele in particolare qui presente ha fatto anche una bella capatina su ghiaccio guadagnando poi il progetto studente atleta con i risultati che ha fatto su ghiaccio consideriamo che noi da Pesaro siamo delocalizzati nel modo più assoluto perché le piste che ci sono in Italia su ghiaccio sono una baselga di pinè l'altra con l'albo quindi immaginate voi abbiamo fatto tre weekend più il campionato italiano dove Adele ha centrato un posto tra i dieci non ricordo bene se un settimo o un nono posto Adele quindi questo fa capire quanto poi l'ecletticismo dei nostri ragazzi e la multilateralità che si propone in allenamento soprattutto in ambito giovanile sia in grado di soddisfare talune esigenze di sport affini ovviamente Adele meglio il ghiaccio meglio la strada e come ti adatti ai diversi tracciati le diverse caratteristiche di queste due discipline allora tra ghiaccio e rotelle ovviamente preferisco rotelle perché ho avuto modo di testarlo più volte e tra strada e pista preferisco pista riesco a esprimermi meglio anche se comunque la strada non mi dispiace C'è questo esempio di Linda Rossi che ha raggiunto traguardi importantissimi un punto di riferimento e il tuo sogno nel cassetto è arrivare a quei traguardi è sempre stato un mio sogno nel cassetto e per me Linda è sempre stato un punto di riferimento sin da quando è arrivata nella nostra squadra e le voglio e anche lei ne vuole a me alle mie compagne ci vogliamo sempre molto bene e c'è sempre stato un rapporto di rispetto e amore Abbiamo toccato il tema dell'impiantistica l'impiantistica è fondamentale per sviluppare al meglio la propria attività poi anche una società dilettantistica ha bisogno anche di risorse da questo punto di vista come siete messi? Allora noi dobbiamo ringraziare appunto il nostro partner Comis che è un partner che ci sostiene dal 2013 prima con l'ingegner Luminari adesso con il figlio Marco Luminari quindi Claudio Luminari Marco Luminari sono stati sempre molto vicini al Toroski Center sia come ski roll che come pattinaggio di velocità proprio lo scorso anno abbiamo fondato un consorzio consorzio sportivo pesarese assieme ad altre due discipline consorzio aperto e quindi può essere anche un invito questa questa trasmissione che abbiamo appunto creato insieme al Muraglia Calcio e al Pisaurum ciclismo Young Riders questo consorzio ha intercettato subito la disponibilità di un grande investitore BS Group quindi una multinazionale che investe nel pattinaggio di velocità insieme appunto a uno delle aziende leader che noi con orgoglio portiamo nella nostra divisa serve una progettualità servono dei valori servono delle idee serve una visione noi non possiamo più permetterci di intercettare investitori e creare e supportare i nostri atleti soprattutto con discipline dilettantistiche se non c'è una visione se non c'è una mission ben delineata dobbiamo solleticare non tanto con le opportunità obsolete quelle che andavano di moda negli anni 80 quanto con quelle che sono proprio le idee di sostegno sviluppo a livello giovanile e soprattutto la metodologia per l'alto livello sportivo questa è la mia idea per concludere la vetrina che nei giorni scorsi vi siete guadagnati addirittura in Parlamento ospiti del senatore dell'Udc De Poli iniziativa alla quale ha partecipato anche il coordinatore locale Pollegioni un'esperienza da ricordare è stata un'esperienza bellissima significativa per la squadra e sono contenta di essere andata insieme a tutti i miei compagni e sono soprattutto contenta per Michi per il traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme grazie a Maria Dele Bocci atleta del Toroschi Center grazie a Michele Ravagli presidente e tanto altro di questo sodalizio noi torniamo fra qualche attimo è un vero e proprio mondo quello dello sport amatoriale un mondo al quale da voce per tradizione il centro sportivo italiano che organizza ormai da decenni nel caso del torneo di calcio da più di 30 anni appunto competizioni dedicate agli amatori nelle quali si misurano ormai da anni generazioni che si passano in qualche modo il testimone dei tornei di calcio a 5 calcio a 8 in campo a tre punti ma anche in altre strutture del territorio parleremo con Gianluca Boiani che è protagonista di questi campionati ma anche con Gabriele Battistelli presidente onorario del centro sportivo buonasera e benvenuti ad entrambi buonasera Gianluca Boiani è uno stacanovista del sport amatoriale ma non solo perché in precedenza ha disputato campionati agonistici di calcio a 5 adesso si sta dedicando anche al calcio 8 alla sua parabola ha dedicato anche un libro che presenteremo tra poco allora com'è nata questa passione ma soprattutto come resiste questa passione dopo tanti anni allora innanzitutto buonasera la passione non è esiste da tempo e praticamente da quando avevo sei anni facevo due sport sia nuoto che calcio ma alla lunga mi piaceva il calcio e praticamente ho cominciato a giocare come fan tutti nelle categorie diciamo dilettantistiche di qua di là e poi contemporaneamente giocavo anche questi tornei di calcio a 5 e calcio a 8 amatoriali del CSI che mi hanno sempre piaciuto e mi sono trovato sempre bene e poi che dire da questa passione come dici tu poi io ogni partita insomma catalogo tutte le foto tutti i risultati tutte le cose tutto quello che si può vedere e da qui poi ancora questa passione che riesce a farmi ancora entrare in campo e questa tua propensione immagazzinare dati ha portato poi alla creazione di questo libro che possiamo esibire e voglio giocare ormai di qualche anno fa che appunto descrive questo tuo ineseribile slancio verso lo sport anche a livello amatoriale che nonostante gli anni che passano resta sempre molto solida molto appunto aperta a nuove avventure forse forse aumenta ancora la passione non lo so se è con lo scadere del tempo diciamo ma vedo che ancora ho la stessa passione intatta di quando avevo 6-7 anni il libro come dicevi tu è nato un po' per gioco diciamo da un'idea di Giulio Malfanti vogliamo mostrarne la copertina a favore di telecamera vogliamo mostrare voglio giocare voglio giocare da un'idea dicevo di Giulio Malfanti e poi da quest'idea tramite Massimiliano Barbadoro che penso conosciate quasi tutti giornalista sportivo qui a Fano è venuto fuori questo diciamo singolare libro che non c'era se no non l'avrei fatto se già c'erano altre copie e tutto ricavato insomma va in beneficenza a una squadra di amputati qui di Fano di cui fa parte Lollo Marcantonini se conoscete poi il capitano abbondantemente abbiamo raccontato tutte le imprese di cui si sono resi protagonisti lui e i suoi compagni veniamo all'attualità calcio a 5 tornea in corso calcio a 8 tornea in corso tu disputi entrambi perché non ti vuoi far marcare niente diciamo che le cose stanno andando meglio nel calcio a 5 piuttosto che nel calcio a 8 sì diciamo che alla base ci deve essere il divertimento e con i risultati stiamo andando meglio a calcio a 5 perché abbiamo una squadra comunque strutturata che si chiama si chiama Bruscia Impianti Polver che ringraziamo perché ci sponsorizzano comunque nell'arco del campionato secondi in classifica secondo in classifica sì prima di Natale abbiamo perso lo scontro diretto e questo ci fa ci dobbiamo ancora lavorare meglio sta per iniziare però il giro di ritorno la stagione è lunga e tra l'altro ci sono anche delle coppe adesso abbiamo la semifinale di coppa che è proprio giovedì questo e poi dopo incomincerà il girone di ritorno e c'è tempo per recuperare insomma Boiani è anche il vizio del gol perché è in vetta la classifica dei cannonieri sì questo dai fa piacere però dai meglio comunque arrivare sempre con i risultati di squadra diciamo calcio a 8 invece lì si fatica un po' di più calcio a 8 è più particolare uno perché è un altro proprio tipo di sport rispetto al calcio a 5 e come ti posso dire insomma è anche difficile sempre mettere insieme una squadra capito competitiva perché molti con gli impegni con altre però ci divertiamo stiamo insieme diremo la nostra fino alla fine comunque impressionante il numero di squadre e di giocatori che ogni anno il XI riesce a raccogliere per queste competizioni sì secondo il mio punto di vista io ho tanti anni che faccio questi tornei con il CSI e dico che sta lavorando molto molto bene nel senso riesce a coinvolgere e comunque riesce a portare come abbiamo visto ma non solo nel calcio 5 e calcio 8 ma anche altre attività molte persone perché ci sono dietro persone come il presidente onorario che si sono impegnate comunque per far sì che questo avvenga comunque complimenti al CSI Gabriele Battistelli partiamo nel tuo caso da un dato che va assolutamente sottolineato la bella età che hai raggiunto nel frattempo parliamo di 81 anni 81 anni e la stessa voglia con cui Boiani scende in campo tu fuori dal campo continui a spendertela nell'allenare i ragazzi nel seguire queste attività del centro sportivo dedicate appunto allo sport amatoriale che magari non ha lo stesso rilievo sociale dello sport giovanile ma comunque una sua dimensione importante senza altro questa qui è veramente una fortuna avere un gruppo un centro sportivo che organizzi queste cose perché veramente per i ragazzi è tocca sana perché al sabato o anche gli altri giorni che giocano questi ragazzi cioè non è che giocano solo i giovani giocano anche gente diciamo attempata diciamo e questo è il bello del centro sportivo perché non 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 esclude nessuno non esclude nessuno chi ha voglia di fare sport lo fa a tutti i livelli sia la calcio oppure anche altre altre discipline perché poi storia di questi anni hanno partecipato a questi tornei anche formazioni che hanno rappresentato magari delle comunità all'interno della comunità fanese più grande piuttosto che rappresentative di soggetti che hanno incontrato qualche difficoltà nella vita certo e soprattutto quello che mi è capitato di vedere è un gruppo di di extracomunitari che hanno sono riusciti a fare la squadra e giocare questo questo tipo di sport è un è un punto di aggregazione anche questo è un modo per integrarsi in una comunità più estesa ora chiaramente c'è anche l'agonismo perché a tutti piace vincere qualche volta magari qualcuno va anche sopra le righe però tutto sommato siamo nella norma Boiani possiamo rassicurare no siamo nella norma anzi più gente c'è che vuole venire a giocare a calcio 8 calcio 5 e più siamo contenti più siamo e più ci divertiamo questa differenza di età che molte volte in campo emerge in maniera evidente poi dal punto di vista agonistico farà differenza oppure ancora chi ha qualche anno in più riesce a tenere testa ai più giovani che hanno magari più gambe più ritmo allora fino a che il fiato regge riesce a tenere testa poi dopo se non hai i cambi adeguati comunque loro vanno di più normalmente dopo però alle volte si vince anche non è detto sempre che si perde Battistelli uno sforzo organizzativo molto significativo quello che il centro sportivo deve mettere in campo ogni anno perché parliamo di decine di squadre e centinaia di giocatori con diversi campi in cui distribuire le partite stanno facendo un lavoro veramente ammirevole perché non so quale spirito a questi ragazzi che organizzano questi tornei così amatoriali veramente a me fa un enorme piacere vedere queste cose una volta nonostante eravamo più giovani diciamo non avevamo questo spirito questa diciamo questo spirito di aggregazione proprio la voglia di stare insieme questo quello che ho potuto vedere in questi gruppi di ragazzi anche le condizioni in cui si svolgono questi tornei sono ormai ottimali è stata superata la fase dei campi che lasciavano a desiderare ormai si gioca stabilmente su fondi in sintetico all'interno prevalentemente del territorio comunale fanese sì anche se qualche volta bisognerebbe comunque rifarli perché comunque anche quelli dopo anni mostrano il loro tempo diciamo però sì dai si gioca bene si gioca bene è molto organizzato bene sono tornei che richiamano anche squadre non prettamente fanesi ma che rappresentano in qualche modo il circondario Battistelli sì so che ci sono di Pesaro di varie diciamo realtà diciamo qui attorno anche Mondolfo Marotta ci sono queste queste situazioni diciamo naturalmente fa piacere come il dirigente del centro sportivo vuol dire che lavoriamo bene cioè questo è il mio punto di vista anche la qualità tecnica di questi tornei non è assolutamente da trascurare anche perché confluiscono spesso in queste competizioni giocatori che hanno abbondonato l'attività agonistica per le ragioni più svariate sì uno pensa che rimando all'amatoriale il livello sia basso ma è basso solo perché il livello di allenamento non è uguale a quello federale diciamo solo per quello perché se no i giocatori ci sono e ci sono bravi e fanno la loro parte facciamo dei pronostici ormai è valutato quello che è il panorama delle squadre chi nel torneo di calcio 8 vedi favorito per il successo finale chi invece nel torneo di calcio 5 allora per quanto riguarda il calcio 8 la favorita secondo me rimane Biagioli perché anche gli ultimi due anni comunque hanno vinto sono ragazzi bravi molto giovani anche loro hanno una bella squadra e c'è un'altra squadra che da Henry che comunque mi sembra di calcinelli all'incirca che sono una squadra molto tosta uguale quelle due tre barra tre ce ne possono inserire altre due ma diciamo che quelle due le vedo favorite per quanto riguarda il calcio 5 ti direi io la squadra nostra però quest'anno ho visto l'altra squadra che adesso è prima in classifica che è la che sta andando Metro Pizza la Finice che comunque sta andando e sta andando forte tutti i ragazzi giovani però ce la giocheremo fino alla fine prima di salutarci invece chiedo a Gabriele Battistelli quali traguardi si pone per il futuro ma non ci sono traguardi ormai tutto quello che viene è tutto di più però l'importante è continuare a divertirsi è l'importante io vorrei quant'è la sera dopo l'allenamento ho il sorriso non magari pensare perché quello ho fatto quello perché l'altro ha fatto quell'altro è un allenatore deve pensare a queste cose al gruppo è quello che diciamo che fa vincere fa diciamo fa crescere perché poi nel DNA del centro sportivo è stato questo il nostro il nostro indirizzo educare i giovani e questa è la cosa più importante che in questa società abbiamo bisogno di fare e queste sono cose che io francamente mi sono impegnato in tutti questi anni a sviluppare se sono ancora in questo campo è per questo grazie a Gabriele Battistelli per essere stato nostro ospite per tutto quello che ha fatto in questi decenni grazie a Gianluca Boiani grazie a tutti voi ancora una volta per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima grazie a tutti